con Danilo Aquino del Perugia, incontro combattutissimo, siete andati sopra poi, vi siete ritrovati sotto di due gol, siete riusciti all'ultimo a riprendere il tutto, 3-3, cosa mi sai dire di più? Abbiamo iniziato male senza portieri, perché è arrivato l'arte, siamo andati in svantaggio sul P1-0, però fortunatamente poi dopo abbiamo ripresa, abbiamo sofferto un po', bella squadra organizzata, magari è stata una partita d'episodi, però è andata bene per come poteva andare e come insomma sarà messa. Esatto, a proposto d'episodi bisogna portarsi a casa quelli positivi e cercare di vincere le prossime? Sì, io la classifica non la guardo mai, partita per partita, però sì, per fare una cosa fatta bene, bisogna vincere l'altra, adesso bisogna fare punti. Perfetto, io ti ringrazio, possiamo ringraziare lo sponsor, il presidente, il signor Del Vecchio Stefano, il nostro spazio, il presidente, che ci permette di giocare. Perfetto, oltre allo sponsor che ringraziamo, ringrazio te e vi faccio un in bocca a loro per le prossime. Grazie.